buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale oggi parliamo di gnos brand newyorkese che si occupa della produzione e vendita online di gioielli dal design originale e dal prezzo competitivo e i prodotti gnos sono realizzati prevalentemente in argento 925 argento sterling 925 e ma ci sono anche dei giorni in vetro di murano o cristallo sono realizzati con materie prime di alta qualità i prodotti gnos per durare nel tempo e sono spediti e apprezzati in tutto il mondo e ora tanti prodotti gnos come per esempio giondoli e collane possono essere personalizzati con il vostro nome quello di una persona cara una parola per voi importante con fotografie quindi per rendere questi gioielli emozionali gioielli unici speciali che ci rappresentano e che parlano di noi uno dei prodotti di punta dell'azienda è sicuramente il bracciale personalizzabile con charms stile pandora pensate potete scegliere tra oltre 600 charms e ce n'è veramente per tutti i gusti e i prezzi sono decisamente più bassi rispetto a quelli di pandora o dei brand insomma principali perché comunque tra produttore e acquirente non vi è alcun intermediario ad osso però sono stata contattata dall'azienda ho avuto la possibilità di scegliere dei prodotti da mostrarvi e ho scelto una collana un bracciale con tre charms scegliere i charms intendo è stato veramente difficilissimo perché sono splendidi insomma ce ne sono veramente di meravigliosi sono suddivisi per categoria c'è anche una sezione dedicata ai peschi con tantissimi charms super divertenti insomma colorati che apprezzano tantissimo anche le teenagers prima però di mostrare i prodotti che ho scelto vorrei un attimino darvi qualche informazione che può esservi sicuramente utile il sito gnos che esiste anche in italiano è assolutamente ben fatto facile da navigare ricco di prodotti a prezzo scontato e in questo momento fino a metà giugno c'è anche una promozione secondo me davvero imperdibile perché abbiamo il 3x2 e quindi praticamente acquistando tre prodotti quello meno caro si riceve in omaggio in più si riceve sempre gratis un bracciale da 35 euro la spedizione standard è gratuita e tracciata per ordini di importo superiore a 60 euro altrimenti è di 7 euro e 99 e dovete considerare circa diciamo una decina di giorni due settimane per ricevere i vostri ordini considerate anche che i prodotti ginos sono fatti su ordinazione quindi ci sono dei prodotti che partono lo stesso giorno mentre altri sono quelli personalizzati richiedono qualche giorno di lavorazione in più comunque considerate anche che per servizi insomma più rapidi potete anche sfruttare la spedizione con DHL per il discorso dogana ho chiesto espressamente mi hanno detto che sul pacchetto loro dichiarano un valore più basso e quindi non dovrete sostenere spese doganali quindi aggiuntive e ho ricevuto gli oggetti all'interno di questa scatola marrone in cartone logata e custoditi poi all'interno di quest'altra scatola quindi questa scatola nera sempre in cartoncino molto elegante con il logo ginos dorato all'interno ho trovato questo sacchetto in vellutino per riporre quindi per conservare gli oggetti utili anche per per viaggiare e poi anche il certificato quindi sgs di autenticità per quanto riguarda l'argento e gli oggetti poi a loro volta erano contenuti all'interno di queste bustine in plastica trasparente bene direi che possiamo cominciare a vedere i prodotti che ho scelto e vorrei cominciare con la collana ora ci sono di tanti tipi insomma di collane sul sito ginos tante sono personalizzabili quindi con fotografie con incisioni ci sono delle collane con charms che richiamano quelli praticamente dei bracciali io ho scelto questa che secondo me è veramente bellissima allora è una collana in argento 925 a doppio filo impreziosita con cristalli cubic zirconia rosa e trasparenti il filo più corto presenta un ciondolo a cerchio con cristalli trasparenti al quale appeso un altro cerchio che termina con una luminosissima farfalla simbolo di libertà ma anche di trasformazione decorata con cristalli rosa il secondo filo quello più lungo termina invece con un grande e sempre luminosissimo punto luce in cristallo le due catenine che hanno quindi lunghezza differente si uniscono ad una certa altezza grazie a questi anellini ad una sola chiusura che secondo me è una cosa molto pratica e poi abbiamo quindi la chiusura che è una chiusura regolabile abbiamo infatti un pezzo di catena come vedete e con degli anellini più grandi che consente appunto di regolare la lunghezza e poi una cosa molto carina termina con un cuoricino che non riuscirò mai a mostrarvi comunque fidatevi c'è alla fine un piccolo cuoricino con il punzone s925 l'ho indossata così sicuramente la vedete meglio in tutta la sua bellezza io la trovo veramente splendida questa collana è delicata femminile chic ma nello stesso tempo è un oggetto del design moderno e contemporaneo passiamo al secondo articolo quindi il bracciale che ho scelto ce ne sono di diversi tipi abbiamo dei bracciali insomma argento ma anche placato oro oro rosa e nero io ho scelto un bracciale placato nero proprio perché cercavo volevo desideravo qualcosa di diverso e in effetti lo è perché lo trovo davvero molto particolare originale proprio con questo con di questo colore insomma ed è un bracciale con classica maglia snake morbida e chiusura a barilotto la chiusura devo dire è molto più facile da gestire da aprire e chiudere rispetto a quelle dei bracciali pandora ma altrettanto è stabile e ferma ora la chiusura è bellissima perché come vedete abbiamo il logo g nose e poi abbiamo una serie di saette di fulmini risposte a raggera con un cristallo trasparente centrale bellissima davvero la chiusura e ovviamente potete scegliere la lunghezza la vostra misura io ho scelto il bracciale e nella misura 18 cm che per me in realtà è un po grande se è indossato da solo ma sarà perfetto e carico di charms un'altra cosa importante che volevo dirvi è che qui sopra potete posizionare dei charms pandora o di altri brand dei brand principali e viceversa quindi potete acquistare i ciondoli di ginose andarli ad inserire nel bracciale praticamente nel vostro pandora quindi sono assolutamente compatibili e quindi questo era il mio bracciale in argento placcato nero vediamo i tre charms che ho scelto e vorrei cominciare con questo vediamo un attimino devo stare un po ferma così mette a fuoco si tratta di un ciondolo con sempre non è utile che ripeterlo ogni volta insomma un ciondolo in argento 925 un ciondolo a forma di cuore e liscio praticamente sul retro e invece traforato praticamente sulla parte frontale con due cuori e una freccia impreziosito con cristalli rossi e trasparenti quindi un ciondolo dedicato all'amore e agli innamorati ma è anche un ciondolo molto particolare perché è anche un diffusore di olio essenziale infatti si solleva il top vediamo se ci riesco ci sono riuscita tantissime volte in questi giorni ma adesso non ci riesco più ecco qua vi dicevo si solleva il top e abbiamo un un coricino praticamente in feltro sul quale si possono aggiungere 35 gocce di olio essenziale ora nella viene fornito questo ciondolo con una bustina comprensiva di cinque cuoricini in feltro quindi di ricambio qua ne verrete quattro nella bustina perché io uno l'ho già inserito all'interno questo perché al di là del discorso dell'olio essenziale e devo dire che a me questo ciondolino piace molto di più con questa base nera perché comunque rende sicuramente i cristalli ancora più spiccano sicuramente ancora di più i cristalli insomma è veramente bellissimo comunque a parte il gusto ovviamente che personale l'oggetto è splendido curato nei dettagli io ne ho tantissimi già non spandola vi assicuro che questo non ha nulla da invidiare ai ciondoli pandora veramente fattura perfetta passiamo al secondo ciondolo che ho scelto che è questo vediamo se riesco a stare ferma due secondi è questo ed è un ciondolo circolare come vedete per quanto riguarda la forma con foro centrale e con cristalli neri e trasparenti che vede come protagonista il simbolo cinese di yin e yang singolo singolo però simbolo di armonia insomma che rappresenta due energie opposte che si completano a vicenda yin e yang sono due concetti del taoismo che rappresentano la dualità presente in ogni cosa dell'universo giorno e notte bianco e nero cielo e terra maschile e femminile eccetera eccetera anche questo devo dire questo è un simbolo che io ho amato da sempre insomma e lo trovo bellissimo questo ciondolo anche questo è un oggetto è fatto benissimo e cristalli sono luminosissimi quindi anche in questo caso molto contenta della mia scelta e per ultimo ho lasciato il ciondolo che sinceramente mi ha colpito di più questo proprio mi ha conquistato al primo sguardo è veramente una delizia vediamo se riesco a mostrarlo anche questo nei dettagli allora si tratta di un ciondolo e con cuore bombato forato e cristalli rossi sui due lati al quale sono appesi un ciondolo a forma praticamente di labbra sempre con cristalli rossi eccolo qua è bellissimo e poi abbiamo anche un ciondolo a forma di rossetto quindi abbiamo questo rossetto nero con stick smaltato rosso e poi cristalli trasparenti è delizioso insomma è piccolino però è fatto veramente benissimo direi che la cura dei dettagli è assolutamente notevole e questo è il ciondolo ideale da regalare ad un appassionata di makeup come me davvero bellissimo veramente più bello di così non si può questo è il bracciale indossato come vi dicevo in questo momento per me è sicuramente un po un po largo insomma avrei dovuto scegliere la misura 17 cm anziché 18 comunque insomma ci manca qualche chance e poi sarà andrà benissimo quindi questo è il mio bracciale genos con i ciondoli che io ho scelto devo dire che anche questo bracciale nero mi piace veramente tantissimo io ancora non l'ho sfoggiato insomma non l'ho indossato ma non vedo l'ora di farlo perché lo trovo davvero bellissimo comunque per concludere genos è un brand che io non avevo mai sentito nominare per me assolutamente una novità mi ha stupito veramente in positivo e propone una vasta scelta di prodotti ci sono tantissime idee regalo e i prodotti per quanto riguarda la qualità insomma è veramente alta senza ombra di dubbio sono oggetti veramente di ottima fattura con un buon rapporto qualità prezzo quindi sicuramente se siete appassionate di bijou vi straconsiglio un giretto su questo sito e se vi può interessare se volete provare qualcosa giù troverete oltre ai link tutti gli oggetti insomma che vi ho mostrato anche un codice per usufruire di uno sconto extra del 5 per cento sui vostri ordini e un'altra cosa che volevo dirvi avevo dimenticato che per qualsiasi dubbio o informazione so che hanno anche un ottimo servizio clienti veloce e super affidabile bene io ho detto tutto spero di esservi stata utile vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla alla prossima